hanno attaccato con tenacia ed hanno completato il podio il sardo sarese della cst sport si è attestato in seconda posizione per la prima volta al volante della osella pia 2000 honda con cui il campione in carica del gruppo e2 sc ha iniziato la difesa del titolo mutare più volte le posizioni in classifica e le condizioni meteo e passare dal bagnato ad asciutto più volte è difficile anche perché io non ho ancora preso bene le misure a questa nuova macchina quindi è tutto da calibrare tutto da centellinare per me va bene così sono contento perché divertente da guidare il team mi segue alla perfezione le gomme avon hanno funzionato bene quindi sono felice entusiasta anche per il futuro del campionato che secondo me promette delle cose grandiose